Il Foggia praticamente, caro Matteo, ha messo alle spalle, almeno per quanto riguarda il giro di andata, le tre trasferte più difficili, anzi forse di tutto il campionato, che sono il Castellano di Stabia, Matera e il Lecce. Bottino di punti, due, due pareggi, però sono due punti abbastanza pesanti, no? Nel senso, forse il pareggio di Lecce pesa più di quello di Matera, pur di vista della prestazione. Sicuramente il punto di Lecce è stato importante, anche se come si era messa la partita, potevamo portare a casa anche i tre punti, l'abbiamo dimostrato sul campo, poi anche loro hanno avuto le loro occasioni, però con quel pizzico mari di fortuna di più portavamo a casa il bottino pieno. a Matera siamo stati bravi, ma anche fortunati, a portare a casa un punto. Dispiace per Ju e Stabia perché, come avete visto tutti, ma lo sappiamo anche prima noi, è stata una partita un po' strana, noi non siamo mai entrati in partita, nel momento in cui magari siamo riusciti a fare il 2-1, siamo stati anche meno bravi con un uomo in meno a farci cacciare fuori un uomo, magari potevamo raddrizzare una partita e magari portare a casa anche un punto che tutto sommato non era meritato. Il campionato è duro e sarà lungo, già da domenica anche il Catania non bisogna sottovalutare, è una squadra, come abbiamo visto dall'immagine, forte e quindi dobbiamo andare in campo con lo stesso spirito di Lecce e per fare una grande partita. Grazie a tutti.